Per copiare un profilo di accesso in ePassan Manager, si inizia facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. Cliccate quindi su Profili di accesso ad OR, per visualizzare l'elenco dei profili di accesso esistenti e selezionate quello che desiderate copiare. A questo punto, fate clic su Altro, e poi sull'opzione Copia del profilo di accesso e inserite un nome per il profilo di accesso. Scegliere quindi i punti Vendita e i lettori che si desidera mantenere o aggiungere. Infine, fare clic su Salva. A questo punto, il nuovo profilo di accesso dovrebbe apparire sul lato sinistro.